Mediterran Martini è una variante del cocktail martini, è un aperitivo creato con del tankeritene dell'amara verna, aromatizzato con un bit romade. Andiamo a sostituire il vermouth con la verna, l'amaro siciliano, nato nel 1868 a Cartanissette in Sicilia, è un amaro sempre a base di radici, erbe officinali, ma è più aggrumato per l'utilizzo di scosse di agrumi prodotte in Sicilia. Ho pensato di sposare l'amara verna con del tankeritene perché rispetto ad altri London Regine è leggermente più aggrumato. Come sempre andiamo a raffreddare per prima il nostro bicchiere di servizio, in questo caso il martini glass, andremo ad aromatizzare il mixing glass e il ghiaccio, con il nostro amaro a verna, andremo a versare in uno shot l'amaro a verna, poi andremo a spiegare il perché, successivamente andiamo a versare i 6 cl del nostro tankeritene, andandolo ad aromatizzare ancora di più per elevare i sentori di arancia già presenti all'interno dell'amara verna, andremo a miscelare per bene, andiamo a versare nella nostra coppa martini, il nostro mediterran martini, per esaltare gli aromi d'arancia, viene completato con un bitter homemade all'arancia e verrà servito con una scozza d'arancia a parte, verrà imbevuta all'interno dello shot che abbiamo usato precedentemente da mara verna, puoi berlo così oppure immergendo la scozza d'arancia all'interno del cocktail, quindi elevare un po' di più quelli che sono i profumi, i sentori mediterrani, puoi fare un third dinner bevendo dopo la mara verna, ed ecco il nostro mediterran martini.